Una felice serata a tutti voi in Amarcus, estrazione del 2 di agosto che si è appena conclusa, era la prima estrazione del mese ed è un primo colpo di gioco per Bari, ambetto secco nel video che vi avevo fatto vedere ieri sera, al primo colpo di gioco arriva il 1786 a Bari, uno degli abbinamenti con il 16, avevo sottolineato apposta l'ambetto perché guardate qua, è infatti arrivato un ambetto secco al primo colpo di gioco, stanno arrivando gli scontrini, il 16 non è ancora arrivato, su Bari si deve continuare ovviamente sulla Bari, ruota unica quindi vi avevo detto che questa era una ruota unica, così è stato, quindi 1786 primo colpo di gioco ambetto, la previsione come vi ripeto dovrebbe andare avanti perché il 16 siamo lì appeso un filo, mi raccomando, il 17 della previsione quella non tanto lontana perché questa era una previsione che poi aveva dato il 56 a Palermo, ecco cosa arriva su Bari, 1780, questa era una previsione che avevo dato su Bari che era sortito poi se non sbaglio anche l'82-88 mi sembra una cosa del genere, o no, sì 82-88 se non sbaglio a Bari, quindi qualcuno di voi l'aveva vinto anche in cinquina, ma poi si è ripetuto il 17 come vi dicevo, guardate 1780, la vecchia previsione di Bari è uscito fuori, 1780, anche su Bari, guardate qua, allora previsione che va avanti quella del 16 di Bari, è stato un primo colpo di gioco ovviamente, ma il 16 dovrebbe ritrovarsi ancora con uno di questi se non addirittura ancora con l'86, quindi i numeri si possono ripetere tranquillamente, non c'è il 90 questa sera, guardate qua, non c'è il 90 nessuna ruota, il 90 era arrivato su Genova, quindi sabato scorso, sta zitto questa sera, quindi un colpo di reset e vediamo se in settimana si farà rivedere, ruote di Milano, Roma, Bari e Venezia sono ancora le ruote per il 90, comunque mandate gli scontrini, 1786 il primo colpo di gioco, ragazzi, meglio di così? Non si può, ruota unica, per quanto riguarda Telegram, primo colpo di gioco anche questa sera, vediamo cosa succederà in settimana, un abbracione da Marcus e mandate gli scontrini, ciao 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 ciao!